Il cardinale della città ferita, l'arcivescovo dell'Aquila Giuseppe Petrocchi è stato nominato cardinale durante il concistoro presieduto da Papa Francesco che si è tenuto nella Basilica di San Pietro, una cerimonia particolarmente sentita in tutta la comunità aquilana. Oltre 500 fedeli locali infatti hanno voluto seguire questo grande evento in prima persona. In prima fila in Basilica c'erano i suoi familiari e tanti amici dall'Aquila. Il concistorio ordinario pubblico ha visto la creazione di 14 nuovi cardinali di cui 11 elettori e 3 ultraottantenni. È un segno di attenzione questo per l'Aquila. L'Aquila è una città che ha le ferite ancora visibili del terremoto, un evento che ha determinato fratture non soltanto nell'ambito murario, quello degli edifici, ma anche nell'anima delle persone. Quindi la carità deve essere attenta a intercettare le domande profonde, i bisogni, perché spesso non vengono espressi ma operano dentro le esistenze concrete, così ha detto il neocardinale Petrocchi. L'ultimo cardinale aquilano è stato Corrado Bafile, che fu un nunzio apostolico in Germana negli anni 60, nominato cardinale nel 1976 da Paolo VI.